Tif tif tico tif tico tif tico normalmente si è in una posizione comoda e se vuoi puoi cominciare a chiudere 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 non si ciao grazie di essere qui qui con me oggi oggi voglio fare un video stai in close up, whispering, whispering e un po' di mouth sound però tutto in modalità super lenta e vicino ai microfoni spero che questo tuo tipo di foto vi possa piacere e possa essere rilassante prima di cominciare con il video voglio ringraziare lo sponsor di oggi che è il low body come sempre ti preoccuparlo con il low body da tantissimo tempo ho testato testata i miei prodotti e voglio mostrarvene alcuni alcuni dei miei preferiti io ho anche una promo molto molto buona oggi allora voglio mostrarvi due dei loro best seller nonché due dei miei loro prodotti preferiti questa mousse si chiama Cove Fresh de Tox Face Cleansing Foam ed è una mousse detergente viso è un aroma di cocco paradisiaco è molto molto morbido detergente bene anche il tocco ma non secca è una coccola al mattino sentire questo tour sentire questa mousse morbida sul viso e veramente se amate il cocco non potete non provarla fantastico crea crea dipendenza però dico un altro prodotto che apprezzo veramente tantissimo è questo contorno occhi carolica è un contorno occhi illuminante di questo colore colore salmone che crea un contrasto con il viola delle chiaie è un contorno occhi leggero ma perfettamente tratante e la promo di oggi è che con il codice chiara special c'è il 50% di sconto su tutto il sito con una spesa minima di 79 euro e in regalo c'è anche uno di adoro bestseller vorrei poter scegliere uno di questi prodotti o ad esempio alcune maschere lì insomma un altro ottimo ed è un'offerta ve lo dico veramente interessante veramente interessante ringrazio ancora a nuovo oggi per aver un po' affettato questa parte di video e ora continuiamo con i sussurri vicini 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 tiggler 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 o qui ti dico questa tipologia di video è forse uno o una delle mie preferite non ho la mia preferita proprio il close up da orecchie orecchie o da orecchie e ora qui con il ricore è super lindo questo non so se siete fan del luisperin che non potete non apprezzare questo video godini queste congole dolci congole dolci congole dolci congole dolci congole dolci sulla viso sulla fronte è la di del viso sul naso sul splendido naso sulla bocca di nuovo sulla fronte così esatto proprio così si sto facendo quello che sto facendo nel test ci ho so facendo se facendo se facendo sì ecco Tap, 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 tap La Chantal 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 Que io adoro otro io non compro di un po' sempre in canale, perché non fa ma devo dire che non arriva a spero però sono anche un sacco carini che non sono assolutamente fischiati che non sono assolutamente fischiati tre, 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 terzo, terzo, poco sia una parte dall'altro e ora avrei anche il corso di tornare a relax è un'estabilità che però è un po' buonissimo di metterci per un giocatore non so che mi fanno male se c'è un giocatore non so gruppo troppo un po' dotate e però il terzo buco sono molto fondamenta qualche volta vorrei mettermi più orecchini ma non ho spazio da piccola non mi mettevo quasi mai da piccola ogni volta se anni fa non mi mettevo spesso gli orecchini perché non lo so mi davano vestiti non riusciva a dormire di sopra a me ce ne so non so bene cosa ne ho cambiato però vediamo il tecmo anche da anche una mente di non tecmo praticamente tipo questo non so un po' di notte non 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 Sì per poco per poco per poco per poco una volta per sempre stuic 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 un giorno questa è la io non lo metto ma l'altro sono un punto semplicemente delle belle in cui ho fatto un po' di trigger ho fatto tutto il mentale chiacchiera un po' con voi mi rispondo un po' di domande e parliamo di un po' di cose c'è un'interazione un ASMR interattivo e faccio questa ruota quindi mercoledì domenica all'invento e lascio il link sotto se vuoi seguirmi anche lì potete riporre le lab ci saranno circa circa due ore quindi dalle 22.30 alle mezza più o meno e sono gratuite molti me lo chiedono ma sono totalmente gratuite le lab e l'appello delle lab che appunto sono in diretta quindi potete interagire con me e magari conoscermi anche un pochino meglio e rispetto a youtube una piattaforma molto diversa si crea un rapporto diverso con chi ti segue e si crea anche quasi una confidenza perchè a volte persone le ripeto che scrivono e mi ricordo cosa scrivono che imparo un po' anche a conoscere chi mi segue è una cosa che adoro questa mente è molto bella che 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 mi sa che è proprio ora di cominciare cominciare a rilassare il tuo corpo per bene cominciare a cercare di addormentarsi veramente sei sul letto sei sul divano su una sedia scomoda sei in piedi beh se puoi dormire perchè come ho detto che tu guardi questo video apposta per dormire vado lì puoi lassarti prenderti un momento per te lassarti mentre pulivi casa fai dei lavoretti scrivi ciò che vuoi per guardare questi video quando puoi ogni volta ci serve e se ti intende quello di addormentarti beh allora mettiti in una posizione comoda quindi e se vuoi cominciare a chiudere 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 cominciare a chiusurre chiudere chiudere gli occhi esatto così, molto bene, molto bene benissimo, benissimo gli occhi chiude gli occhi, chiude gli occhi, chiude gli occhi chiude gli occhi, molto bene, continuate le alligiosi cerca di rilassarti, io sono qui apposta i miei occhi diciccherosi siamo qui apposta per farci aumentare quindi ora concentrati sulla mia voce su questi modi mi lascio di incollare nella mia voce che va da orecchie orecchie, 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 orecchie prima sono qui e poi sono qui e poi di nuovo qui, poi di nuovo qui lasciati guarnare guarnare, lasciati guarnare, ok? e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso a proprio si aggiunto allora di 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 a a passare le luci e a curarti a curarti e a curare a te a te che mi stai ascoltando ma scopi o no o no o no o no buona 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 Really sweet dreams. Good night. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas, buenas noches. 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 so io buonanotte buonanotte pasticcini buonanotte pasticcini aspetta un bazzone che li spera tu, 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 tu